Loretta, stai sempre da un mese quando guardo questo film, sempre da un mese. Valdo, un po' ti contegno. Ogni ripresa che faccio, stai sempre andando. E perchè? La professora Bando stanno andando. Nello, la Croce Penna, da fianco alla parte. Beh, perchè la la notte non so è. C'è il resto per questo che c'è anche. Tanto che questo è il busto. Ci è rimasta la casa, è rimasta a metà. Non ho mai sentito illogina. Sì, sì, sì. Sfai qua quanto, eh. Sfai qua quattro. Sfai qua. Cioè, e adesso una segnata. Non non posso metterla a città. Non posso metterla a stessa così, ma. Dai di provo. Ma che dà, dai? Non c'è l'occo, non c'è l'occo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.